Le HTW 5200 è un proiettore domestico molto compatto, ma nonostante le sue dimensioni è dotato di caratteristiche molto interessanti, che lo rendono perfetto non solo per la proiezione di filmati, ma anche per videogiochi e altri usi meno convenzionali. Punti di forza sono la lampada E3 LCD, in grado di garantire immagini in full HD a 480 Hz di refresh. Offre numerose porte di collegamento, due HDMI, di cui una MHL è lo standard per i dispositivi mobili, una porta VGA per il collegamento con computer di qualsiasi genere, ingressi RCA video e audio, una porta USB, una seriale e un'uscita per un amplificatore esterno. Un telecomando permette l'accesso a tutte le funzioni di controllo, ma è possibile intervenire anche dalla tastiera posizionata nella parte superiore. Ecco le regolazioni dell'angolazione, del focus e della dimensione dello schermo. La potenza di fuoco è di 1400 lumeni in modalità eco e di 2000 in quella normale, ed è in grado di proiettare immagini da 34 a 328 pollici, una diagonale di 8 metri e 30, un rettangolo di 7 metri per 4. Come resistere alla tentazione di giocarci? L'abbiamo portato nel cinema privato di GameSurf e l'abbiamo collegato alle nostre console. L'effetto è impressionante! Nonostante le dimensioni dello schermo, l'immagine è nitidissima, fluida e precisa. Il leg fra il segnale e l'immagine è praticamente inesistente e la risposta ai comandi è sempre immediata. Immagini e colori sono nitidi anche con una discreta illuminazione, ma è con la penombra e il buio che raggiungono il massimo. Anche i menu sembrano più belli, con i caratteri alti mezzo metro. Nessun televisore può raggiungere queste dimensioni e non c'è nemmeno traccia di effetti scia o motion blur. Perché non provare anche con un bel Blu-ray? E se lo schermo non basta, va bene anche un muro, purché sia grande! Tanto per divertirci abbiamo voluto giocare ancora, ma in modo diverso. Abbiamo installato un software di video mapping e costruito un piccolo stage con carta, cartone e un palloncino. Mezz'oretta di settaggi sul computer e via! All I see It's not From where What I want You have Not got I want Try to use the things you sold me No matter what the cost Try to go the way you told me But each time I got lost The stairs Insomma, le HTW 5200 si è rivelato un proiettore estremamente pratico, potente e versatile. Sia che vogliate guardarci un film, giocarci, mostrare una presentazione o divertirvi con il video mapping. Tutto quello che dovete fare è cercare una superficie su cui proiettare, da 34 a 328 pollici. Il costo? Parliamo di poco più di 2 euro a pollice. O se preferite, 700 euro. UNIVERSBY Grazie a tutti.